Oggi possiamo dire che il Comune di Arezzo è uno dei pochi comuni che ha un punto nevralgico per tutte le politiche familiari, dalle politiche legate all'educazione, alle politiche legate al supporto alla genitorialità, alla presenza di assistenti sociali, a momenti di confronto per l'autonomia di ragazzi o famiglie in difficoltà. È un bilancio decisamente positivo quello tracciato dall'assessore del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, riguardo le politiche familiari della Giunta Ghinelli. Al centro dell'azione di Palazzo Cavallo la volontà di concentrare tutti i servizi e i percorsi dell'amministrazione nei locali della Casa Diritta, struttura che sorge in via Garibaldi a pochi passi da Porta Trento Trieste, inaugurata nel novembre del 2013 dall'allora sindaco Giuseppe Fanfani. Un testimone raccolto dalla nuova Giunta che soprattutto nel 2016 ha aumentato sforzi e risorse in questo ambito. Già in un anno e mezzo perché tali è il periodo che abbiamo avuto di fronte, abbiamo contaminato più di 2400 genitori, riuscendo a orientare in quel luogo anche molte associazioni del territorio, compresa il Centro Aiuto alla Vita e anche, e lo presenteremo in un'altra occasione, lo sportello del cittadino con l'ordine degli avvocati. Nel solo 2016 sono stati 46 nuclei familiari coinvolti in percorsi di sostegno alla genitorialità su mandato del Tribunale. 50 genitori hanno preso parte a incontri di promozione del benessere familiare, 60 i soggetti presi in carico per consulenza familiare, 3 gli affidi. Con questa realtà trova casa in maniera definitiva una realtà molto interessante della città di Arezzo che è da tanti anni che esiste e che è il supporto alle famiglie che scelgono l'affidamento e l'adozione. Così come è un elemento di grande importanza la possibilità di poter accompagnare anche situazioni di criticità rispetto alla maternità cercando di applicare davvero la 194 nella sua prima fase e nella sua prima parte che è la eliminazione al massimo della necessità di scegliere l'aborto.